Strade dissestate, marciapiedi in condizioni davvero precarie, mancanza di strisce pedonali nelle zone dell'attraversamento. Consigliere Pignoli, siamo in via Terno a Pescara, siamo in periferia e molti residenti si lamentano proprio della condizione di queste strade e anche dei marciapiedi. Porterò queste loro nostre, che sono cittadini anche di Pescara, all'assessore competente. Penso che sulla questione dell'asfalto dovremmo partire quasi immediatamente con l'appalto quadro dove potremmo agire su varie vie che non sono specificate per cui potremmo intervenire. Per quanto riguarda la pulizia chiamano immediatamente attivo per far pulire e per quanto riguarda i marciapiedi la cosa è un po' più complessa perché ha bisogno di un progetto, però già se ci muoviamo così penso che i cittadini sarebbero già contenti. Periferia di Pescara, voi avete sempre posto e lei in particolare una grande attenzione proprio sulle zone che sono più lontane dal centro cittadino. Sì, infatti il mio cavallo di battaglia è sociale e nel sociale oltre all'aspetto dell'aiuto della persona ci rientrano anche i lavori all'interno delle periferie dove risiedono praticamente la maggior parte delle persone bisognose. Il signor Remo si è fatto portavoce oggi delle richieste, delle rimostranze dei residenti qui di Via Terno perché la situazione è obiettivamente difficile. Attualmente le cose non sono state risolte, quindi per cui, anche perché, non so perché Via Terno, la seconda parte di Via Terno che porta al cementificio è sempre trascurato, abbiamo più volte ci siamo lamentati ma senza aver risolto niente. La nota positiva invece è questo parco, il parco della pace? Sì, 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 è stata positiva nel senso perché è stata, grazie all'amico Massimiliano Pignoli, è stato gestito da una persona che veramente ci tiene questo parco, lo sta portando avanti. Ci vuole molta pazienza perché questo parco era abbandonato completamente. Adesso questi che ci sono che veramente si danno da fare.